e ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata del conte oggi vorrei spiegarvi come fare il tutorial quindi il tutorial del tutorial per prima cosa accendiamo la luce avete visto la crisi se mi inquadro da questo lato vedete che il mio viso è bello luminoso se spegniamo la luce diventa tutto buio il cellulare mi fa diventare la faccia gialla quindi riaccendiamo la luce è una cosa indispensabile che può servire per fare un buon tutorial e delle buone riprese ricordatevi sempre di avere la faccia con la luce più o meno frontale altrimenti ci saranno ombre come potete vedere questa metà della mia faccia all'ombra quindi andiamo subito a prendere cosa ci può servire un cellulare come in questo caso oppure potremmo anche prendere una iro tipo una session o una iro più grande possiamo prendere una telecamera e possiamo prendere anche un drone ah no il drone che cavolo ci facciamo siamo dentro casa quindi ributtiamolo qua non ci serve a niente possiamo prendere un cavalletto come questo un cavalletto più grande un cavalletto più piccolo se avete una mano leggermente stabile come la mia vedete come stabile potete usare la vostra mano col vostro braccio per cercare di essere alla meno peggio stabili in questo caso io uso il braccio perché sinceramente un video così non me ne può fregare di meno se esce tremolante col parkinson e quindi ciao godetevi questo tutorial sul tutorial prendiamo poi una cosa importantissima cioè il microfono e siccome io ho una voce troppo forte il microfono non mi serve a niente e lo possiamo buttare anche questo avete notato quante cose servono per fare un cavolo di tutorial praticamente serve solo l'oggetto di cui effettivamente parlare di cosa parleremo di niente è un tutorial per il tutorial quindi io vi saluto grazie per la visione ciao e ci vediamo alla prossima e se vi volete iscrivere al canale fatelo magari vi farò un tutorial su come farlo visto che siate diventati degli imbecilli a rimanere per un mese e passa a casa ciao e alla prossima